Inviare e tener traccia dei ticket di supporto per un utente singolo o aziendale registrandosi a MyHP Support. Sul computer o dispositivo mobile, andare a support.hp.com. Per assistenza generale, in caso di domande o problemi relativi a MyHP Support, selezionare Supporto aziendale, quindi selezionare Guida di MyHP Support. Per registrarsi a MyHP Support, selezionare Supporto aziendale, quindi selezionare Registra un account. In base al tipo di account utente desiderato, selezionare Utente aziendale o Singolo utente. Compilare i campi necessari per la registrazione. Se si crea un account utente singolo, inserire nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, paese o regione. Per un account utente aziendale, inserire nome della ditta, numero di telefono e altre necessarie note aggiuntive. Una volta inserite tutte le informazioni, selezionare Registra. Verrà inviata una e-mail di verifica che invita ad andare sul portale MyHP Support. Aprire l'email e selezionare Completa registrazione per aprire la pagina di accesso. Creare un account HP Connected che viene utilizzato a fini di autenticazione ogni volta che si accede al portale MyHP Support. Se si possiede già un account HP Connected, seguire le istruzioni per inserire le proprie credenziali e accedere al sito. Se si dimentica il nome utente o la password, selezionare Hai dimenticato il nome utente o la password e seguire le istruzioni per ripristinare il proprio account. Se non si dispone di un account HP Connected, selezionare Non hai un account? Registrati. Compilare tutti i campi necessari, quindi fare clic su Registrati. Verrà inviata un'altra e-mail di verifica. Una volta ricevuta, aprire l'e-mail per visualizzare il codice di verifica. Inserire il codice di verifica, quindi selezionare Invia. Una volta reindirizzati alla pagina del profilo, compilare i campi per completare la registrazione al portale. Si noti che non è possibile modificare l'indirizzo e-mail. Consultare la pagina Guida di MyHP Support per modificarlo. Compilare tutti i campi necessari delle sezioni Contatto e Indirizzo, quindi selezionare Visualizza profilo per controllare le informazioni. Confermare che le informazioni siano corrette, quindi selezionare Salva.